everything's everywhere è un film che ha tantissimi dialoghi in cinese e in inglese con degli accenti inglesi pazzeschi dove appunto sentiamo che sono dei cinesi a parlare in inglese e trovo assurdo doppiarlo così e chissà chissà che casino non riuscirei mai a vederlo non riuscirei mai a vederlo in doppiato allora ci sono tutte delle questioni intorno politiche pazzesche perché questo è un film che nel momento in cui non lo conosce un cazzo di nessuno allora wow vince 8 oscar e diventa un'altra faccenda miglior montaggio miglior sceneggiatura originale miglior regista miglior colonna sonora migliori costumi miglior attore non protagonista miglior attrice non protagonista cioè pazzesca comunque non importa 7 8 6 sta di fatto che ha fatto veramente un colpaccio però diventa un caso politico nel momento in cui vince tanto perché prima è il povero sfigato prodotto dalla 24 e prodotto distribuito distribuito dalla 24 e mal cagato per un sacco di mesi anche se si stava facendo conoscere molti dicevano è bello è bello è bello poi vince gli oscar chiaramente passa dalla parte del nemico diventa il mainstream ma questo non è il mainstream nonostante ci siano comunque degli attori famosi e ci sia una bella produzione costosa questo non è un film da pochi soldi adesso io non so se qualcuno gli voglia andare a cercare io no per sapere quanto è costato miglior migliore anche se ha vinto anche il primo miglior migliore anche miglior oscar il miglior film che ha vinto tanti oscar un po un po infastidisce quindi quanto è quanto è importante come ci sentiamo noi nei confronti di un film per capire se vale è molto importante per questo dobbiamo cercare di goderci il film e se siamo dei recensori cercare di essere un po al di sopra dei nostri gusti al di sopra delle nostre antipatie cerchiamo di toglierci tutta sta roba chi se ne frega quanti oscar ha vinto e se li ha vinti meritatamente io vi dico quale oscar gli avrei dato ed è l'unico oscar che secondo me è strameritato che è miglior sceneggiatura originale cosa significa che non è tratto da un libro o un'altra cosa è un film fatto molto bene fatto molto bene montato bene con tantissime cose fatte bene ma non 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 è la cosa che spicca la cosa che spicca è la sceneggiatura la storia la storia è originale in un in in un certo senso vi spiego perché se voi lo vedete sembra matrix come diceva prima il buon square e ha ragione a dire sembra matrix sembra un derivato di matrix anzi è stucchevole questa cosa è abbastanza stucchevole per un una persona del passato che ha amato matrix per le sue trovate intelligenti è fin troppo matrix e matrix fino a punto in cui a un certo punto dici che palle lo inizi quasi a odiare questo film nonostante sia recitato bene fatto bene bellissimi bellissime trovate tante idee brillanti simpatico questo è un film simpatico eh questo è un film che ha una simpatia notevole soprattutto con alcune ideuzze come appunto la 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 possibilità di andare a pescare a pescare delle capacità facendo delle cose strane quindi facendo dei rituali strani si possono pescare delle capacità però ecco non ce la puoi fare cioè non ce la puoi fare sembra tutto un già visto sembra tutta una grande scusa per fare combattimenti fare robe di montaggio video ecco dire che questo è un film montato bene solo perché gli altri film c'hanno un taglio ogni dieci minuti questo invece è un continuo sovrapposizione di immagini effetti speciali di ogni genere costumi trucchi gag è un film molto dinamico però non mi viene da dire è un film montato bene per me è un film montato bene è un film con con pochi tagli ma significativi cioè molto più un film molto più semplice qui c'è del virtuosismo nel montaggio tutto quello che vuoi è una roba da 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 gente che fa gli assoli con la chitarra no cioè non è qualcosa di semplice ed elegante non è semplice ed elegante questo film è complesso e sfarzoso è un carnevale in tutto questo carnevale in tutta questa film che è un film di grandi citazioni e secondo me matrix da cui attinge lo cita in realtà lo cita ma cita anche altri film cita ratatouille cita cose assurde ecco dopo tutto questa barocconata molto bella esteticamente la figata e la figata incredibile la figata incredibile e la storia ed è la storia non è che lei è una donna e ci sono tante versioni di lei negli universi non è quella la storia ed è qui che io godo come un pazzo perché dico sempre guardate che la storia non è il drago le fiamme il castello oppure l'astronave gli artigli lascia la motosega quella non è la storia la storia sono sempre le relazioni e la semplicità di una piccola storia di relazioni è diventato un mega film sui molti versi la storia è il rapporto e questo è un po spoiler secondo me perché comunque ve ne accorgerete solo alla fine che la storia è il rapporto con la figlia la vera storia è il rapporto con la figlia non ve ne fregherà più un cazzo di niente nulla avrà più senso perché il film è proprio quello che ti dice se tu sei in tutti questi universi molti moltiplichi in tutti questi universi dove da una parte sei un fallito da una parte sei un vincente dall'altra sei uno che si fa i cazzi suoi dall'altra hai cambiato sesso dall'altra hai cambiato paese nell'altra ti sei tinto i capelli nell'altra hai imparato dieci lingue ti fa sembrare quasi che tutto quello che fai non ha senso puoi anche stare fermo perché tanto ci sono altre versioni di te che stanno facendo qualcos'altro che tu non stai facendo e allora ritorna il valore del non importa più niente importa solo perché è mio è personale sarà anche la mia schifosissima vita ma io ci tengo è la mia ci sono affezionato a quelle quattro mura di merda in cui vivo in cui ho creato la mia azienda e lo schifo di rapporto che ho con mia figlia mio marito e compagnia bella mi farà anche schifo ma è qualcosa che amo comunque e che mi sono solo dimenticato che mi sono solo dimenticato dei sentimenti che ho quindi secondo me il film alla fine è un buon film è un film che è capace anche di emozionare nelle parti finali e soprattutto mi ha sorpreso come riesce ad essere molto furbo perché alla fine va dallo spettatore gli dice hai visto ho creato un grandissimo film di fantascienza sui metaversi ma in realtà ti ho preso per il culo la storia è solo che una madre e una figlia non riescono a capirsi ma fondo a fondo si vogliono bene ecco questo è un po' il trucco e a me è un trucco che è piaciuto parecchio ecco questo è quello che penso di everything everywhere non bisogna guardare il dito bisogna guardare la luna quindi non aggrappatevi al fatto che è un film che vi sembra quello vi sembra matrix perché lo fa apposta lo fa apposta per per giocare con la pop culture per giocare con noi per giocare con lo spettatore non è non è che copia si immerge in quello che è il nostro conosciuto poi c'è una bellissima scena sulla gentilezza che ha citato anche barzo che vedrete molto carina molto però non è un film privo di difetti ci sono delle cose che avrei fatto meglio ma meglio che non ne parliamo perché sarebbe un po' troppo spoiler ho apprezzato il gioco del giro largo fatto per raccontare la dinamica l'ho apprezzato cioè è lì il gioco è lì che io ti dico hai visto la storia c'è ed è una storia che è sentimentale è una storia che commuove può commuovere e io ci ho costruito sopra un film di fantascienza perché se tu hai la storia e la storia è sempre il rapporto tra le persone il rapporto interiore il punto di partenza il punto di arrivo di questo rapporto cioè l'evoluzione che sia interiore o che sia con un altro elemento allora ci posso attaccare sopra guerre stellari combattimenti tra medievali e qualsiasi cosa è il viaggio dell'eroe è il viaggio dell'eroe della protagonista che capisce delle cose è sempre così e quindi secondo me è geniale e quindi grazie a tutti